Io sto facendo un regalo ad Alice, ed è un bell'uovo di Pasqua. Ecco qua, tutto per te. Grazie. Prego, caro. Dove siamo qua? Siamo al gelato buonissimo. A Lignano Pinetta? A Lignano Pinetta. Ah, mi pare che qualcuno compia anche gli anni oggi. Sì? E allora, non dite niente, auguri. Ha il gelato buonissimo a Lignano Pinetta? Sì, io dobbiamo al gelato. Alice è contenta, Andrea è contento, Alessia è contenta, Clara è contenta, contento anch'io. Ok, e qua ci sono anche i fiori. Uuu, che belli. Fiori della Olga. Fiori della Olga. La signora Olga. Ok. Ok.